Musica Diamo il benvenuto ad Anna Maria Uras, buongiorno. Buongiorno. Anima del progetto Coraggio e Libertà. Coraggio, anche quello di aver fatto un passo indietro quando sono venute meno le condizioni nella coalizione che inizialmente la sosteneva? Sì, assolutamente sì, grande coraggio, ma anche un coraggio, soprattutto il coraggio di ripropormi dopo, perché quel coraggio mi viene naturale quando una persona ha dei principi saldi e ha delle idee chiare, facilmente dice no quando gli vengono proposte delle soluzioni che non aggradano, soluzioni che non si condividono. Devi essere coerente, quindi la coerenza porta ad avere coraggio. Quale ostacolo non poteva essere superato? Non poteva essere superato l'ostacco di portare in quella coalizione dei soggetti politici che io reputo responsabili di un'inerzia, di un freno, di un'incapacità globalmente intesa del nostro apparato politico generale, cittadino e territoriale e tutto, di saper amministrare. Cioè, se noi avessimo avuto nel tempo rappresentanti capaci, è ovvio che l'oristano non si sarebbe trovato in una situazione di agonia e di stallo in cui si trova attualmente. Per cui è ovvio che presentarsi in una campagna elettorale accompagnata da coalizioni che rappresentano, che sono proprio l'emblema, insieme ad altre, per carità, l'emblema di strutture politiche e di logiche partitiche che proprio io ho avversato, ho criticato da una vita, cioè mi sarebbe, sarei andata contro me stessa, non avrei potuto farlo. Ecco, a proposito di partiti, il suo nome inizialmente è stato anche sul tavolo del centro-sinistra, portato però dal partito dei Sardi. Ma ovviamente no, questo non è corretto. È stato portato, poi non so da chi sia stato portato, se dal partito dei Sardi o dal PD, perché io appena ero uscito avevo chiesto al mio segretario cittadino, gli ho detto ma come mai avete fatto il mio nome? Ma lascia stare Anna Maria, lascia che vada il tuo nome. Ma sai, poi, voglio dire, poteva anche, in quel momento ho valutato che volevano fare il mio nome, poteva essere stimolante per certe scelte, per individuare insomma, diciamo una dritta, una strada di rinnovamento, allora perché no? Se non fosse stato il mio nome e sarebbe stato il nome di un'altra persona che poteva garantire il rinnovamento, sarebbe stato comunque altrettanto interessante, altrettanto bello, non per forza il mio nome, per cui se questo poteva tracciare una strada di rinnovamento, quindi di cambio rispetto a quella che era l'amministrazione attuale, a cui si voleva dare proprio un cambiamento, un segnale di cambiamento, o ben venga anche a proporre il mio nome. Per cui poi questo mio nome, mi dicono, è stato sposato dal partito dei Sardi, cioè nel momento in cui si discuteva evidentemente è stato sposato, ma non solo, anche altre forze politiche lo facevano, però evidentemente non trovava il gradimento di quello che era il mio partito, che era il PD. Ma queste sono polemiche che a me, in questa campagna elettorale le abbiamo dette, ridette, superate. Andiamo avanti perché veramente il coraggio è quello che io ho avuto negli anni, non è che mi sono inventata il coraggio oggi. Io ho questo atteggiamento, diciamo così, critico nel confronto di un certo tipo di politica che fa riferimento esclusivamente a persone che si installano in posizioni che sembrano irremovibili e bisogna proporre sempre loro, solo loro, gli amici loro, i fratelli loro. È un atteggiamento che ho da sempre. Da quando, da quando credo di aver, mi sono affacciata al mondo della politica, che non per forza ero tesserata. Facevo politica, ero rappresentante dell'istituto a scuola, facevo politica al liceo. Ho fatto politica all'università, perché per esempio noi avevamo creato a Sassari il primo comitato in assoluto che c'è stato in Sardegna, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Cioè non avevo ottenuto la partita, ma l'ho sempre fatto. Andiamo avanti allora. Come molti altri candidati, anche Anna Maria Uras sta affidando parte della sua campagna elettorale all'Uebb, anche per stare al passo coi tempi. Ho visto proprio in questi giorni alcuni video che mettevano in luce il degrado urbano di Oristano. Lei l'ha detto più volte, ma è davvero così trascurata Oristano? Sì, allora, è davvero così trascurata e mi sono resa conto che il cittadino la percepisce veramente, cioè percepisce quotidianamente questa trascuratezza e la percepisce camminando nelle strade, facendo le cose ordinarie tutti i giorni, ma soprattutto la percepiscono le persone più deboli, quindi gli anziani, le mamme che accompagnano i bambini a scuola, i bambini, le persone che hanno delle difficoltà fisiche o di qualsiasi altro genere. Questo è veramente inquietante, è vero. La città è in una situazione di degrado veramente avanzato. È vero che qualche via è stata sistemata ed è stata abbellita. Di questo bisogna darne atto e infatti sono molto contenta di questo. e credo che tutti quanti noi cittadini siamo contenti. Però ci sono vie più periferiche, ma anche comunque centrali, anche il centro storico, che è veramente, devi fare slalom, devi comunque per camminare, per fare una passeggiata. Proprio di sera io ho voluto camminare a piedi per le strade per continuare a constatare quello che è la lamentazione costante di tutti i cittadini. In quelle interviste che ho fatto, ho avuto interessantissime, ma ne ho fatto anche altre in questi giorni, dove ho raccolto altre difficoltà dei nostri cittadini. Mi sono resa conto che sono situazioni pesanti, pesanti che devono trovare un rimedio. Ha messo i giovani al centro del suo programma elettorale. In che modo concretamente? Allora, intanto dando una prima dimostrazione di necessità che si assumano le loro responsabilità e che capiscono che loro sono super importanti nella nostra società. Io ho avuto modo di incontrare diversi giovani in questa campagna elettorale e mi hanno tutti accolto in maniera entusiasta, infatti io sono entusiasta di questo, perché hanno capito che loro, io credo di aver fatto passare questo messaggio, che tutti possiamo essere bravi cittadini, tutti possiamo essere propositivi, tutti dobbiamo smettere di lamentarci soltanto, ma dobbiamo essere cittadini operosi, fattivi. Cioè, prima di tutto prendendoci cura di quella che è appunto la res pubblica, ma anche quando non ti prendi carico direttamente, anche nell'espressione del voto, anche nella chiacchierata quotidiana fatta al bar col vicino di casa, col compagno di scuola o con i propri figli, o con i propri fratelli, dobbiamo essere cittadini virtuosi, cioè dobbiamo sempre porci in una situazione di consapevolezza che siamo persone che dobbiamo avere dignità, dobbiamo avere forza, dobbiamo avere il coraggio di affrontare ogni giorno una società che qualche volta ci è ostile, ma può esserci una grande amica. E noi dobbiamo cercare l'amicizia e la società. I nostri programmi per i giovani sono tanti. Intanto posso dire che nel nostro programma abbiamo previsto tutta una serie di cose che ci riportano in un ambito, come dire, anche internazionale, cioè vogliamo far crescere i giovani consapevoli della cultura del nostro territorio, ma anche consapevoli che possono e devono abbracciare nuove culture, devono aprire la loro mente. E soprattutto, cosa importante, abbiamo predisposto un programma che dia la possibilità a tutti di conoscere le proprie capacità, ai propri talenti, le proprie inclinazioni, e soprattutto ancora inserirsi nel nostro programma di sviluppo, che è importante, e trovare anche nel nostro territorio occasioni di lavoro, occasioni di lavoro creativo all'interno di quelli che saranno i nostri nuovi assetti economici. E' ben consapevole di avere di fronte quella che lei stesso ha definito squadrone della morte. Squadrone della morte, sì, ma non teniamo niente. Ecco, una media di 100 candidati consiglieri. Sì, ridicola, ridicola a 100 candidati consiglieri che distruggono la democrazia, e quindi io chiedo a tutti coraggio e libertà nel far valere un voto chiaro, sincero, unito, con una lista semplice come la mia che è forte, che è una lista forte perché è coesa e sincera e forte nel suo essere coraggiosa e libera. Date il voto alla mia lista e evitate di votare gli squadroni della morte, perché quelli stanno deprecando, avvilendo la nostra democrazia. E la democrazia è un valore, è una conquista fatta dai nostri padri costituenti che ci diamo a mantenere forte. E questo, per noi cittadini oristanesi, è il primo passo. Grazie Anna Maria Uras. Grazie a te. Siamo giunti allo spazio conclusivo dedicato alla conoscenza dei candidati alla carica di sindaco di Oristano. Avremmo dovuto dedicare quest'ultima intervista a Vincenzo Pecoraro, leader del polo civico. Purtroppo, come vedete, alla mia sinistra lo sgabello è vuoto, perché una terribile notizia ha sconvolto queste ultime ore di campagna elettorale. Vi leggo testualmente il comunicato che ci è pervenuto questa mattina in redazione. Il candidato sindaco Vincenzo Pecoraro e i gruppi della coalizione che lo sostengono si uniscono al cordoglio per la triste scomparsa di Francesco Ledda, candidato nella lista dell'Udc alle elezioni amministrative del prossimo 11 giugno. Francesco aveva seguito queste settimane di campagna elettorale con passione e dedizione alla politica, sottolinea Vincenzo Pecoraro. Non abbiamo avuto il tempo di ringraziarlo, siamo distrutti da questa notizia, ha dichiarato il leader dell'Udc oristanese Giuliano Uras. In segno di lutto, la coalizione ha deciso di annullare ogni iniziativa elettorale a partire dal concerto previsto per il 9 giugno in piazza Cova. e anche nuova televisione si unisce al cordoglio e ai familiari di Francesco Ledda.